Dottore, a che mi avete combinato? Signor Aldo, ma perché vi faccio salvare la vita che vi ho combinato? Con tutti i rispetto per la vostra professione. Dottore, che i problemi continuano? Continuamente. Ma quali sono questi problemi, signor Aldo? E voi vi ricordate, perché sono venuto il mese scorso? Perché tenevi il problema dei testicoli blu. E voi che avete deciso? Ho deciso, ho detto che li dovete togliere, perché è meglio tagliare i testicoli e continuare a vivere, anziché morire. E li abbiamo tagliati. E li abbiamo tagliati. Poi sono ritornato, perché si era fatto blu il pene questa volta. Signor Aldo, il pene si è fatto blu, si doveva tagliare, se non si tagliava il pene. Emo arrivate, però per farvi espletare le vostre funzioni, vi ho fatto mettere un tubicino. Bravo, un tubicino ai plastici. Bravo. Dottore, si è fatto pure pure un tubicino. No, non è possibile. Sì, signor. Facciamo una visita più accurata ancora, eh. Mettetevi sul lettino. Dite 33. 33. 34. 34. 35. 35. Basta, non so se ci conto più. Questo è il santo per drammatizzare, eh. Vi fa male se tocca qua? No. Vi fa male se tocca qua? No, signor. Qua. E che è? La penna. Una penna. Due penne in la sacca. Sì. Questo scrive blu. Che è stato pure scrive blu. Signor alto, ma voi hai portato sempre il penne in la sacca? Sempre? È il mio lavoro. Oh mamma, no carmina. Erano le penne che hanno fatto tutte cose blu. Signor alto, hanno rifuso le palle per senza niente. Che c'è? L'agio rifuso. Ciao. 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 Ciao.